A Cava di Tirreni la farmacia Carino offre anche servizi per il controllo della salute. I nostri dispositivi permettono di ottenere in tempi brevissimi referti di pronta consultazione da parte dei medici. Una seduta di consiglio comunale, quella di ieri 18 giugno tenutasi nel pomeriggio dalle 16.30 presso il palazzo di città Cava di Tirreni, dedicata alle interrogazioni e raccomandazioni dei consiglieri comunali. Come di consueto, la gran parte delle istanze rivolte agli assessori o ai dirigenti comunali hanno riguardato aspetti legati alla manutenzione delle strade o del verde pubblico. I consiglieri Bruno Delia e Marcello Murolo hanno posto all'attenzione il grave problema della mancanza di rete fognarie ancora in diverse frazioni della città, dove i cittadini sono continuamente destinatari di accertamenti in merito. A questo proposito, l'assessore senatore ha illustrato le opere già realizzate nelle ultime due consigliature e i progetti già definiti che attendono un finanziamento per le ulteriori da farsi. I consiglieri Pasquale Senatore e Vincenzo Passa hanno quindi depositato delle interrogazioni in merito ai lavori presso via Gaetano 5, la cui ultima azione è attesa da anni. Pur non essendo ancora del tutto completati, il problema presentato riguarda il completamento del nuovo marciapiedi per circa 8 metri di strada, che ne rimarrebbe sprovvista, con conseguenti rischi per i pedoni. Su questo aspetto e sulla posa dell'asfalto, che per mancanza di fondi non coprirà interamente il tratto stradale di via 5, si sono accesi gli animi nel confronto tra Passa e l'assessore senatore. Ma io non ho capito una cosa, ma quando voi avete fatto fine sabato a Martelli Castaldi, a dove va tutta quanta la strada? Era quanto hai fatto quattro anni fa, appena mi siete in generale col secondo mandato. Ma poi via Gaetano 5 si ferma tutto. Il progetto di via Martelli Castaldi era un progetto dell'amministrazione Marco Gatti. Ma attualmente non mi dareste per trovare i soldi. Non era... Ma si sceneggiate, ma si sceneggiate, non colpiscono, non colpiscono si sceneggiate, facciamo un attimo quanto. Ripeto, lo dovevamo fare solamente la parte, il fronte della frana. Non ho 17 anni che sto chiedendo la strada. Eh, va bene. Per quanto riguarda invece via Rotolo, su cui è tornato il consigliere Manso, l'assessore ha spiegato i tempi tecnici che necessitano per le prove di carico, prossimi ad essere in dirittura d'arrivo. Altro tema affrontato è stato quello dello stato d'incuria del civico cimitero che sembra perdurare nonostante l'affidamento ad una società esterna, per quanto la gestione amministrativa resta in capo al comune. L'assessore al ramo del vecchio si è giustificato ricordando che la società è in opera da appena un mese e si sta anche ridefinendo il personale in servizio della stessa, oltre al dipendente comunale che mantiene le funzioni di custodia durante l'orario di apertura al pubblico. Altra questione toccata è quella della gestione delle case dell'acqua sul territorio comunale. Secondo quanto segnalato ancora dal consigliere Pasquale Senatore, la società affidataria sarebbe manchevole di alcuni servizi previsti nella concessione stessa e i cittadini, inoltre, starebbero riscontrando dei problemi nell'utilizzo delle schede magnetiche per l'acquisto dell'acqua. Raffaele Giordano ha posto due interrogazioni, una in merito al cartellone estivo di eventi, rispetto al quale ha dato disposta il consigliere delegato Armando Lamberti, e l'altra che ha riguardato invece le iniziative messe in campo per garantire dei campi scuola ai bambini durante la stagione estiva, al di là dell'offerta dei privati, che non manca, ma che magari non tutte le famiglie possono permettersi. A questo proposito abbiamo sentito il consigliere Giordano. Durante il periodo estivo c'è un problema, non di poco conto, infatti mi è stato segnalato da molte mamme. Un problema che coinvolge soprattutto quelle famiglie dove entrambi i genitori sono lavoratori. Ed è il fatto che i bambini restano a casa, perché sono terminati i corsi scolastici. Cava è fortunata perché esistono tante associazioni che si dedicano alla formazione dei campi scuola, i cosiddetti campi scuola, però ovviamente sono delle attività private e non tutte queste famiglie possono permetterselo. Allora, cercando su internet, ho visto che ci sono molti fondi a disposizione per attività sociali di questo tipo e ho chiesto all'amministrazione cosa intendesse fare per la prossima estate. L'amministrazione mi ha risposto che si è attivata su questa problematica, che è una problematica, ripeto, molto molto sentita dai genitori, e che ha partecipato a un bando per reperire i fondi. Ha effettuato e ha pubblicato anche la manifestazione di interesse per vedere i soggetti interessati a parteciparvi e appena saranno disponibili ovviamente la materia prima, cioè i fondi, verranno effettuate le concessioni per far sì che i nostri piccoli bambini, i nostri piccoli cittadini possano svagarsi e non pesare sulle proprie famiglie. Inoltre, l'amministrazione ha assicurato che nel momento in cui verrà attuata tale pratica sarà data un'ampia diffusione, proprio per dare la possibilità a tutte le famiglie interessate di potervi partecipare.